buongiorno buongiorno a tutti buona macedonia musicale nuova per agosto 5 settembre creato teatro antico di taormina l'unico live italiano di erma almetta per quest'estate ha fatto una cosa un evento gratuito in val d'aias in val d'aosta comunque questo al 5 settembre il suo concerto vero sale cadenti bellissimo bellissimo nuovo singolo totalmente diverso da uno che avrete sicuramente sentito perché è girato parecchio questa è la news che riguarda erma almetta poi non sapevo quale scegliere perché in realtà di eventi ce ne sono tanti sparsi per l'italia bergamo val d'aosta puglia alla fine ho optato per cervia perché un posto di mare valga per tutti lì insomma ci sono appuntamenti con il cinema appuntamenti con i libri per esempio a ferragosto c'è la spiaggia ma al libro con una serie di incontri con gli autori anche a ferragosto in realtà ce ne sono anche altri di appuntamenti e poi mi piace segnalare cervia perché il 14 quindi quasi ci siamo c'è alle 20 c'è un dinner show con orietta berti che è decisamente la regina di quest'estate mille con achille laure fedez farà the voice entrata come coach nella giuria poi il 20 agosto alle 20 c'è un dinner show con spettacolo con anna maria barbera la comica mette una sera con sconsi il 17 agosto super pop il meglio della musica pop di sempre con uno spettacolo musicale insomma c'è un bel calendario qui a cervia stagioni 20 del grand hotel di cervia le jardin del grand hotel ospita una serie di appuntamenti ogni settimana poi cosa altro dirvi allora che ho pasticciato con il tablet e quindi adesso non riesco a recuperare la recupero allora la notizia riguarda una un esordio mi piace segnalare persone nuove parole di vetro brando d'esordio di ditta marinelli loro sono un duo si chiamano alessandro marino e fabrizio belli sono figli del rock inglese si dichiarano tali ed è il canto del cantautorato parole di vetro se volete scoprirli e capire chi sono per la macedania musicale è tutto ciao ciao